Maltrattati a parole, percossi, mortificati nella loro condizione di debolezza, erano la cura e l'assistenza riservate agli anziani di una casa di riposo IRAS del centro di Rovigo da nove dipendenti della struttura. Otto operatori sanitari, sette donne italiane ed una marocchina e due inservienti, tra cui un uomo, sono indagati per maltrattamenti in concorso aggravati dalla minorata difesa. Il GIP applicato a tutti gli indagati, la misura interdittiva del divieto di svolgere attività professionali di dipendenti, strutture sanitarie, sociosanitari e socioassistenziali, è il termine di un'indagine della squadra mobile Rodigina coordinata dalla procura. Un'inchiesta delicata e toccante che ha colpito emotivamente gli inquirenti. Le vittime sono anziani non autosufficienti, incapaci persino di raccontare il comportamento che subivano. Quindi una volta che si decide di avviare un'attività tecnica di questo tipo, un'intercettazione, quindi sostanzialmente noi ci torniamo a vedere cosa accade. A quel punto ovviamente ti assumi anche la relativa responsabilità, la procura si assume la relativa responsabilità e le intercettazioni che vengono posti in essere. Non ti deve scappare niente perché ovviamente è responsabilità dell'operatore che si trova dietro lo schermo, avvisare immediatamente la procura, il dirigente per monitorare con costanza quello che sta avvenendo all'interno della struttura monitorata. Che tipo di maltrattamenti subivano questi anziani? Guardi, come dicevo e come ha annunciato appunto lei, si tratta di maltrattamenti quindi il genus è abbastanza ampio. Si va dalle lesioni, non gravissime ma comunque percosse, minacce, offese e anche qualche atto denigratorio che spero magari dimostrarvi successivamente. Il denigratorio è appunto della dignità, mi sento di dire, della persona che si trova a subirlo, che già di per sé si trova in una situazione difficile perché parliamo di non sufficienti, comunque che si trovano ovviamente immobilizzati a letto, quindi già quella è uno status difficile da gestire. Anche denigrati e quant'altro ovviamente ha il suo peso. La segnalazione è arrivata dall'interno, da colleghi? Sì, è arrivata dall'interno e questo è stato anche apprezzato da noi perché vuol dire che c'è anche la volontà di denunciare, di evidenziare eventuali difformità che l'operatore si può trovare a riscontrare. Operatori che lavoravano da tempo lì, quindi è un comportamento che adesso dovrete verificare se hanno sempre avuto oppure magari un momento di burnout collettivo? Questo al momento non mi sento di dare una risposta sicuramente completa o compiuta perché soltanto ulteriori indagini ci poteranno confermare da quanto tempo la situazione andava avanti. In questa struttura non erano mai arrivate segnalazioni di maltrattamenti? Per quanto mi risulta a me nella struttura specifica oggetto di indagine no. E i parenti delle vittime? Al momento non sono stati appunto contattati e sicuramente l'attività di indagine porterà anche a sentire, a verificare eventuali dichiarazioni, eventuali difformità che lo stesso parente può vedere nel proprio, in questo caso nell'anziano del gente. Grazie. 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 Grazie.